Giornata decisiva nel girone B di serie B per il calcio padova femminile che fa visita al sassuolo capolista e attualmente ha più 5 sul calcio padova. Si capisce che se il padova vuole continuare a coltivare sogni di promozione deve assolutamente uscire con un risultato positivo dallo storico Mirabello di Reggio Emilia. L'inizio però non è dei più incoraggianti il sassuolo prende in mano la partita e si fa vedere subito dopo 4 minuti c'è questa azione sulla destra arriva al tiro poi Barbieri da fuori area il suo destro però non inquadra la porta il padova perde una palla sanguinosa con Laura Peruzzo. Dopo partire il contropiede del sassuolo facilitato anche da un errore di Alessia Mazzucato e così Orsi va a segnare l'1-0 al diciassettesimo minuto sassuolo in vantaggio. Qua si mangia un po' le mani la difesa biancoscudata per questi due errori prova poi ad attaccare il padova ma si scopre ai contropiedi del sassuolo è proprio questa numero 7 Orsi è tra le più attive qua riesce a deludere il fuorigioco è solo davanti Adonà ma spara incredibilmente alto. ventitresimo minuto ancora Orsi cresce andare via sulla sinistra ottimo dribbling poi arriva davanti Adonà cade a terra l'arbitro però vede una simulazione ed ammonisce il numero 7 del sassuolo sospiro di sollievo per il padova che però continua a subire qua c'è un'azione un po' confusa che manda verso la porta Tardini il cross al centro e c'è il gol di Faragò. mezza difesa biancoscudata si era un po' fermata chiedendo il fuorigioco ma comunque sul cross di Tardini nell'azione precedente non c'era nessuno offside e quindi il padova è sotto 2 a 0 e si scuote soltanto dopo il doppio svantaggio qua a suonare la carica a Reanna Catuzzo guardate che grinta come recupera la palla poi però il suo destro è troppo centrale così l'ultima occasione del tempo è per il sassuolo con questo tiro dalla distanza ancora di Orsi che però non inquadra la porta si arriva nel secondo tempo ed è assolutamente un altro padova anche se continua a perdere un po' troppo pallone nella propria tre quarti campo ma non ne approfitta la capo caoniere del girone Costi che spara alto poi ancora Reanna Catuzzo sicuramente tra le più positive anche se qui è un pochino egoista invece di servire Margherita giubilato va al tiro con il sinistro e non inquadra la porta Sassuolo in contropiede il padova deve scoprirsi per forza ci prova ancora Costi Donà però è attenta si arriva quindi al venticinquesimo minuto anzi questo è il ventesimo minuto del secondo tempo quest'azione di Laura Peruzzo trova la sponda di Claudia Ferrato poi non riesce a liberare la difesa del Sassuolo il tiro di Ferrato però è debole questo è il venticinquesimo minuto con Margherita giubilato che taglia il campo salta due versari e poi è bravissima a servire Claudia Ferrato che tutta sola davanti al portiere non sbaglia segla il suo quindicesimo gol stagionale resta in scia la capo caoniere Costi ma soprattutto riapre la partita un padova mai domo che nel secondo tempo dopo aver sofferto molto nel primo gioca sicuramente meglio del Sassuolo Sassuolo cerca anche di riaprire le partite ma in questo caso le migliane fanno vedere di che pasta sono fatta dopo questo tiro alto serrano le file non fanno più passare niente così finisce 2 a 1 per il Sassuolo che mette in cascina la propria dodicesima vittoria consecutiva il padova adesso si stacca di 8 punti dalla vetta ma proverà a rifarsi subito la settimana prossima contro l'Arezzo in casa Grazie